ciao l'esercizio di oggi si chiama tu sei più dei tuoi pensieri sebbene a volte ti succeda di fare riferimento ai tuoi pensieri come a comandi o a direttive che sono in grado di controllarti la realtà è che tu sei molto più complesso e potente dei tuoi semplici pensieri è una consapevolezza importante non basta capire questa verità può essere utile anche sentirla sperimentarla per farlo segui queste semplici istruzioni prova a dire ad alta voce non riesco a parlare e mentre lo dici nota che a dispetto del contenuto della frase in realtà stai parlando poi pensa a te stesso e tra te e te con la voce della tua mente ditti non posso battere le mani mentre invece fisicamente le batti un contro l'altra in questo modo puoi facilmente esercitarti a fare il contrario di quello che dicono i tuoi pensieri nota come ci si sente a non essere comandati dai propri pensieri il tuo cervello generalizzerà a poco a poco l'effetto di questo esercizio metaforico Grazie a tutti.